È stato grazie al coraggioso e provvidenziale intervento di due giovani sei carabinieri sono riusciti ad arrestare per tentata rapina un 30 settene di Gropparello, nulla facente con precedenti per maltrattamenti in famiglia e spaccio di droga. Attorno alle 16 di mercoledì scorso, in piazza Maria Assunta, proprio a Gropparello, l'uomo si è avvicinato con la scusa di chiedere informazioni ad un'anziana e a sua moglie residenti a Fiorenzuola, mentre stavano per salire sulla loro automobile per rientrare a casa. Prima li ha minacciati intimando di consegnargli le chiavi della vettura e al loro rifiuto ha preso per il bavero e scaraventato a terra 72enne. L'anziano ha battuto violentemente la testa sul selciato mentre la moglie cercava di difendere il marito colpendo con la borsa della spesa l'aggressore. Per fortuna due giovani di passaggio hanno notato la scena e sono accorsi in aiuto della coppia. Uno ha fermato la collutazione, l'altro ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti in pochissimo tempo il personale del 118 per prestare immediato soccorso all'anziano riverso a terra e i carabinieri di Gropparello, i quali hanno fermato ed arrestato il 37enne, domiciliato proprio in paese. L'anziano è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Piacenza, mentre il pregiudicato, dopo le formalità di rito, portato in carcere alle novate.